Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video! Ciao! Vorremmo salutare Valentina e ovviamente tutti i nostri fan! Oggi faremo un video diverso dal solito, vero Azzurra? Sì! E cosa faremo? Fare un parkour con gli slime! Wow, non vedo l'ora! Ma come si fa a fare un parkour con gli slime? Vediamo un po', Azzurra, cosa combinerà? Sì, qui ci sono degli attrezzi molto belli, che servono per un po', però noi li usiamo anche per lo slime. Stacchiamo un po', che deve essere un salto, bello! Prendiamo un po' di verde. Facciamo che questo è lo slime spinacchio. Spinacchio! Sì, perché io le spinacchie, le diciamo spinacchie. E per fare un tonno gli serve la mela. Questa si sembra anche una bella mela deliziosa. Dobbiamo schiacciare molto, perché sennò non si fa la forma. Pau, ci riesci a farlo? La pallina, che carina! Vediamo! La pallina mela. Ora, cambiamo il colore rosa. Sì, è un po' faticare, eh! Vabbè, facciamo così. Questo coltellino, un momento, che non fa male, vero mamma? Ma no, quei coltellini lì sono per bambini. Ok, cambiamo ancora la pallina. Quella rosa, quella che piace, rosa! Per me, mamma, ti piace molto quello verde. So, perché? Perché fa di molto menta. Eh sì, a me piace un sacco. Ma a me piace come colore rosa, mi piace come il profumo, quello bianco. Ma cosa fai con queste palline? Eh, ci faccio le palline, perché dopo, ovviamente, possiamo fare così e dopo... Dov'è il bianco? È vero. E fare così e... Fare così e metterci a saltare, così non dobbiamo aspettare. E per entrare basta fare una freccia, che dobbiamo fare un po' più lunga, non dicevo così tanto lungo. Vabbè, ci riusciremo a fare una freccia. Vediamo. Sì. Sì. Eccola lì. Un pezzo. Perfetto. E anche da un'altra parte, perché se no quell'oltre in casa voglio aspettare, c'è anche il corso di un disco. Mica possiamo stare sempre in fila. Quindi due frecce, uno di qua, uno di là e il percorso da fare. Sì. Che bello fare il parkour. E dopo lo proveremo. Abbiamo anche già scelto i nostri personaggi. Attacchiamo, perché intanto è lo stesso colore. Ci serve una cosa. E' un po' di acqua, perché se no si inciampa. E' un po' di acqua, perché se no si inciampa. E' un po' di acqua, perché è bello. Vedi? Ho mischiato un po' col verde, così sembra anche le omode. Bello. Sì. Di sfumatura. Ora, qualina? E' partito. Tipo pizza? No, perché questa c'è dentro una piscina, c'è un po' d'acqua, così non dobbiamo cercare di piattere. Quindi ci sarà dell'acqua. Dopo dovremmo fare con l'arancio, con il... Io l'adoro l'arancio come colore, perché è molto bello. E' molto solare, vero? Sì. Come a me piace l'anguria. Questo toast lo useremo con il gradino e lo coloremo di arancione. Bello. Anche colorato, così non sembra un vero toast. Vero? Mamma, se no gli altri viene fame. Sarà un po' difficile. Noi ce la faremo. Sì, vero? E' certo, eh? Sì. Tanto Benji si aspetta il suo parkour perché lui sta dormendo. Eh, Benji è qua con noi, sì, sempre qui. Eccolo là. Non piace essere... Far vedere che lui dorme, quindi ho preso per gli occhi. Allora, vediamo un po'. Faremo così, allora. Così e ci schiaccieremo un po'. Aspettiamo un po'. Aspettiamo un po'. Ce l'ho fatta? Ottimo. Ok, vuoi trovarlo mamma? Sì, però aspetta. Per decidere chi partirà, faremo un gioco e vediamo se lo supererai. Se supererai il gioco toccherà a te per prima, altrimenti toccherà a me. Ok. Allora, il gioco è questo. Io ho qua una rivista che è allegata allo slime. Questa è la rivista qua che vedi, gioca e colora. Ok? Allora, qui dentro ci sono vari giochi, ok? Cosa hai deciso? Io avevo deciso tra i vari giochi di farti fare questo qua. Questo gioco qua. Unisci gli opposti. Se riuscirai a farlo correttamente toccherà a te, altrimenti ovviamente sarò io la prima a farlo. Va bene. Ok mamma, per me è molto semplice. Per te mamma? Adesso vediamo, azzurra, cosa fai. Sono un po' più curiosa. Per me io se la faccio. Grande. Piccolo. Chiuso. Apera. Ok, vediamo un po'. Sì, fatto tutto giusto. Dunque, notte e giorno, benissimo. Poi c'è chiuso e vediamo un po' aperto. Dimmi di tu. E invece, fammi leggere. Pesante. Sì. Con pesante. Con? Leggero. Perfetto. Piccolo, grande. Ottimo. Preddo. Caldo. Bravissima. Ma hai superato la prova, la grande, azzurra. Sì. Quindi, sarai la prima a partire in questo parkour. Ok? Ok. Benissimo. Benissimo. Allora, quale scegli tra le due formine? La fragola. La fragola. Quindi a me rimane l'altra. L'arancia. Ok. Però voglio io prendere l'arancia, tu mi dirai dove dovrà andare. Io voglio iniziare da destra, perché sono destrina. così. Ok. Andiamo. Per me è molto semplice. Ok. Non mi vuole buttare così, col trampolino. Uno, due, tre. Olè. Ah, io ti aspetto qui, eh. Mi sto rilassando. Ok. Allora, adesso tocca a me. Sì. Dove vuoi partire, mamma? Io parto, visto che sono sinistra. Qua, mancina. Partiamo da qua. Pronti? Via. Io non ho mai fatto un parkour. Rilassare qui, vai avanti, vai sulla pallina. Hop. Vuoi saltare sul trampolino così normale? No, sul trampolino. Ok, proviamo. Uno, due, tre. Olè. È bella rilassante, eh. Mamma, cosa sto sentendo? No, no, non mi dire. Wow. Ma perché è tutto rosa? Mamma, mamma, vedi qui? Mi sono tutta bagnata anche di rosa. Beh, per me è bello. Quindi, ho detto il mio capatoio rosa. Ho anche stendino rosa. E tu che colore vuoi? Io vorrei il viola, che è mio preferito. Ok, con le palline però, certo. Certo. Così anche il tuo è decorato. Ecco. Che bello. Sì, ora però mettiamo tutto dentro, perché sennò non si secca, no? Bianco. Sì. Ha ragione. Sto facendo un po' di gioco insieme. Di slime, però. È diverso. E cosa dice azzurra se facciamo un bruco gigante? Di che colore? Di tutti i colori. Un colore dietro l'altro. Tipo le palline, vuoi dire? Sì. Eh, ok. La tiriamo tutto fuori, di nuovo. E mamma, mi dispiace, ma non ti puoi rigassare, voglio dire, mi lascio di qui con me. Travelo, però. Perché un petto se no si incolla. L'arancia, il verde. Ok. Ci serve solo la mela. Allora, la faccia la voglio fare bianca. Bianca, ok. Questa si sembra un po' rosa, come la nostra pelle. Sì, dai, carino. Allora, stacchiamo un po'. Mettiamolo qui. Ogni slime che si spezza, si mette dentro, se no si secca. Lo penso giusto. Sì. Lo piegiamo. È forte. Sì. Vabbè, facciamo come con la sabbia. Sta uscendo perché era giusto. Ok. Togliamo l'eccesso. Oddio, sto mettendo il coltello al contrario. Guarda che bella. È bellissima. Bella. È una pallina. Cioè, non è venuta molto bene perché è slime. Vieni. Ma se vuoi puoi farlo anche con le mani e la pallina, azzurra. Ci provo. Se si stacca. È lunghissimo. Ah. Ci provi. Ah, bello. Vediamo. Un po' di tutto. Non riesco più a fermarmi. Vai. Sì. Potremmo fare. Quindi la testa è rosa e il corpo iniziamo con il bianco. Tanto se lo mettiamo così non si attaccano. Ma attaccali, attaccali. Deve essere un bruco. Ecco. Perfetto. Perfetto.